Torniamo, rimaniamo un pochino a parlare di prevenzione, il nostro spazio dedicato alla salute oggi parliamo di disturbi dovuti al cattivo funzionamento della tiroide e come invece un corretto stile di vita può sicuramente aiutare a prevenirli se non a curarli. Ne parliamo come sempre con il dottor Mauro Boldrini, giornalista e divulgatore scientifico, ideatore del ritratto della salute Talk. Buongiorno e benvenuto dottor Boldrini e poi endocrinologa e il direttore della fondazione IBSA per la ricerca scientifica, la professoressa Silvia Misiti. Buongiorno professoressa. Professoressa Misiti, andiamo subito al punto. Che cos'è la tiroide? Che ruolo svolge nell'organismo e soprattutto che cosa succede quando si inceppa? Allora, la tiroide è una ghiandola molto piccola, situata qui nel collo davanti alla trachea, però è fondamentale per la vita. Non si vive senza tiroide, produce degli ormoni tiroidei che sono fondamentali per noi perché ci garantiscono il metabolismo, mantengono la temperatura del nostro corpo e sono fondamentali per l'accrescimento di una serie di organi. Ecco, sulla funzione abbiamo anche il nostro cartello, come diceva lei, eccole qui, metabolismo e termogenesi, poi accrescimento ed effetti biologici. Queste sono le funzioni principali. Quali sono invece i principali disturbi dovuti al cattivo funzionamento della tiroide? Allora, fondamentalmente è molto semplice perché la ghiandola produce questi ormoni tiroidei, ne può produrre troppi o troppo pochi e quindi tutti gli organi potrebbero risentire di queste alterazioni, proprio nei livelli. Quindi di solito si parla di ipertiroidismo, quando abbiamo troppi ormoni tiroidei, quindi un metabolismo troppo veloce, e ipotiroidismo quando invece siamo in carenza, in diminuzione di ormoni tiroidei. Quello che ha indicato che ha il gozzo è quella patologia che determina un ingrandimento del collo, proprio dovuto al fatto che la tiroide sta facendo una fatica bestiale, scusate il termine, per produrre gli ormoni tiroidei e quindi si ingrandisce. Ecco, dottor Boldrini, che ripercussioni possono avere questi problemi nella vita di un atleta? Fondamentali. Diamo anche un dato epidemiologico. Sono 6 milioni di italiani che soffrono di disturbi della tiroide con alcune zone particolari, alcune zone del Lazio per esempio, Frosinone e Latina detengono il record nazionale di patologie legate alla tiroide. È difficile andare a comprendere, sono alcuni aspetti di ordine genetico e alcuni aspetti invece legati agli stili di vita. Poi alcune zone delle valli bergamasche e alcune zone di montagna del Piemonte, questi sono i picchi. Da sottolineare che l'Italia è il paese più a rischio di patologie della tiroide. Silvia, come mai? Ma questo dovuto proprio al fatto che, dicevi tu, queste aree sono delle aree che hanno una presenza di iodio proprio nell'aria minore. Quindi l'Italia è un po' indietro su quello che, poi ne parleremo più avanti nella trasmissione, quello che è la iodoprofilassi, cioè l'utilizzo dello iodio anche per esempio nell'alimentazione. E quindi molte persone, anche se non gli è stato diagnosticato un reale ipotiroidismo, soffrono di carenza di iodio, cioè troppo poco iodio. Ecco, l'abbiamo un po' accennato con l'alimentazione. Eccola qui, la prevenzione con i cibi ricchi di iodio. Professoressa, cozze, aragosta, palombo, acciughe, baccalà. Questi sono i cibi ricchi di iodio che potrebbero aiutare in qualche maniera. Diciamo che il messaggio che voglio dare anche oggi è che in generale un'alimentazione il più variato possibile è quello che poi sempre aiuta il nostro organismo perché anche la tiroide troverebbe lo iodio nel... Ovviamente ci sono alcuni cibi, in particolare il pesce e i crostacei sono molto ricchi di iodio e quindi se riuscissimo a introdurre, oltre all'utilizzo dello iodio nel sale, quindi il sale iodato, anche questo tipo di alimenti, aiuteremo la nostra tiroide a lavorare meglio. Dottor Boldrini, quanto conta invece lo stile di vita e soprattutto l'aspetto genetico? Lo stile di vita è fondamentale, come purtroppo per tutte le patologie. E vale il discorso di sempre. Mangiamo troppo o troppo male, non seguiamo la dieta mediterranea, facciamo troppo poca attività fisica, le ragazze e i ragazzi fumano sin dall'adolescenza, consumano alcol anche se occasionale, ecco tutte queste situazioni determinano il fatto che evidentemente il nostro organismo ne risente. La tiroide è un organo importante del nostro organismo e risente pesantemente di questa attività, anche nello sport Silvia. Sì, infatti, diciamo, le patologie della tiroide non inficiano l'attività sportiva se la tiroide funziona normalmente, anzi sono di sostegno e di aiuto, nel senso che una tiroide funzionante permette, dall'atleta fino alla persona comune che fa sport in maniera diciamo amatoriale... Quindi l'attività agonistica non è impedita assolutamente? Non è impedita se la tiroide viene tenuta sotto controllo e funziona normalmente. Potrebbe essere non impedita, ma potrebbe essere influenzata in senso negativo se è una tiroide, per esempio, che fa fatica e quindi tutti noi il primo sintomo di un ipotiroidismo è una stanchezza profonda. Ecco, questo è un campanello d'allarme, la stanchezza. Altri campanelli d'allarme quali possono essere? Dunque, la stanchezza va tenuta presente insieme a un eccessivo nervosismo. Mi rendo conto che sono dei sintomi un pochino generali, soprattutto con la vita che facciamo. Però, diciamo, è una stanchezza che i pazienti descrivono in una maniera particolare, quella dell'ipotiroidismo. Cioè, proprio una fatica, un'inerzia iniziale a cominciare la giornata. E questo dovrebbe far riflettere. Campanello d'allarme. Questo spesso poi diventa un alibi per non fare attività fisica. Ricordiamo che nel nostro paese 23 milioni di italiani a tutte le età non si muovono mai. Quindi è un dato particolarmente importante perché sfioriamo circa il 40% di totale inattività. Invece un'attività fisica costante, regolare, quotidiana, davvero aiuta tutto l'organismo, il sistema cardiocircolatorio, ma anche la tiroide, ma anche il sistema osteoarticolare. Quindi è fondamentale muoversi. Questi piccoli disturbi della tiroide, se non vengono affrontati subito, offrono un ulteriore alibi per non muoversi. Certo. Velocemente, professoressa, gli esami più indicati da fare, soprattutto la terapia. Allora, dunque, gli esami più indicati da fare, io consiglio un normale controllo dei principali ormoni tiroidei. Il medico di base è in grado di inserire, qualunque medico di base, si inserisce in un check-up standard il controllo degli ormoni tiroidei. Ricordiamo anche in gravidanza. Anche in gravidanza, fondamentale, ne parlavamo prima, fondamentale perché in gravidanza aumenta il fabbisogno di iodio. E quindi, se già c'è una tiroide affaticata, in gravidanza possiamo andare incontro a una grave forma di ipotiroidismo che non solo ha delle conseguenze sulla mamma, ma soprattutto sul nascituro. Fondamentale, usare sale iodato. Sale iodato, siamo come al solito, e lo dico criticamente sul nostro paese, siamo sempre indietro. È soltanto dal 2005 che si può utilizzare il sale iodato nella ristorazione collettiva pubblica, quindi fino adesso era una iodo profilassi che la gente faceva in maniera volontaria. Abbiamo chiesto e ripetuto che anche nei supermercati venga indicato l'utilizzo del sale iodato vicino alle scatole, quindi si trova dovunque, va utilizzato in casa, normalmente, al posto del sale, con le stesse precauzioni con cui si utilizza il sale. Ovviamente persone che soffrono di ipertensione fanno un uso un pochino più controllato del sale, ma non è il sale iodato che va a inficiare questo tipo di patologie. Professoressa, come ci si deve muovere anche a livello istituzionale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi? Sulla tiroide è sempre un problema perché sono patologie importanti, ma non sempre molto trattabili e curabili. Quindi le istituzioni, i media, ci ascoltano fino a un certo punto. Abbiamo creato una fondazione, che è proprio Fondazione IPSA per la ricerca scientifica. Vorremmo occuparci di endocrinologia, ma di tante altre cose. Ci occupiamo molto di tiroide e quindi cercheremo di divulgare a livello proprio scientifico informazioni sulla tiroide, cercheremo di dialogare con le istituzioni, i giornali, fino a medici di base, per fare in modo che queste informazioni giungano proprio a livello locale al pubblico. Per combattere la tiroide è fondamentale che si uniscono più specialità. Il medico di famiglia senz'altro, l'endocrinologo, ma anche il ginecologo. Tu citavi giustamente il problema in gravidanza. Quindi la Fondazione ha proprio questo scopo di unire le diverse specialità a tutto vantaggio del cittadino e anche delle istituzioni, perché non dimentichiamoci che queste patologie hanno un costo sociale rilevante. Grazie a professoressa Silvia Misiti, grazie professoressa, grazie naturalmente al dottor Mauro Boldrini. Attenzione quindi alla tiroide, controllarsi sempre, fare attività fisica, sale iodato, mi raccomando. Tg Sport adesso e poi rientriamo con zona 11, sempre qui in studio, da mattina sport. A più tardi. Grazie a tutti.